Mi ha chiamato mia nonna che ieri è successa una cosa un po' così Praticamente c'era nonno fuori che stava a prendere il sole tipo dopo pranzo Una signora è voluta entrare e ha detto no io che bello vederti vorrei fare l'amore con te vorrei fare l'amore con te Gli ha preso la mano e gliela ha messa lì E mentre la metteva lì provava a tirare via l'anello Però nonno ha le dita grosse non gli si tira fuori bene Quando ha capito ha cominciato a vaffanculo Quindi ragazzi state attenti perché è pieno di questa gente che sono pericolosi Perché comunque una persona anziana prova a sfilare l'anello Gli diceva andiamo dentro casa andiamo dentro casa Quindi state sempre attenti perché con gli anziani è facile Io avrei voluto vedere la scena per vedere nonno perché è appassionato di sorche Quindi lui sicuramente Nonna ha detto la mano ce l'ha lasciata Poi quando ha capito però adesso a parte i scherzi Facciamo attenzione perché basta un attimo Magari gli danno una botta sulla testa per prendere il portafoglio C'è una roba pazzesca quindi occhi e gambe sempre Però nonno la mano ce l'ha messa Faustino Faustino Che stai a mangiare oggi? L'anello è arrabbiata che ha la torta Ah beh Guarda sei tutto sbrodolato Ma io se la salvezza ci me l'ha Madonna mia che arroganza Ma ti fa bene a te l'anello con la torta? Ah beh Che ti fa? Ma fa bene che mangio Che ti fa? Che ti fa? Ma fa bene Ciao